Allora, buonasera, siamo qui nella peperinetta 158, un posto che sembra di vivere, grazie a te Raffaele. Qual è uno di questi temi? Noi andiamo in isolanti a Sarebolo da qui ho fatto tre anni, per quello caso stavamo cercando un locale qui in isolato vicino a casa, siccome siamo nativi di frequenza, cercando per caso, uscì questo locale a cui io ho già colpito da prima in patto, il giardino che è vero sia il punto forte il giardino, appure all'interno del locale, è un locale molto bello, veramente storico abbiamo fatto grandi lavori di distribuzione, sia interno e esterno, e abbiamo puntato sulla qualità ovviamente complimenti, abbiamo visto, c'è pure un grande chef, è tutto curato ai minimi particolari e poi c'è pure una bella esperienza con l'appositano, sì, mio padre è più che io, mio padre non si lascia e lavora appositano e io, diciamo, hai eseguito il lavoro di la mamma facendo le cose stavolta, complimenti veramente, grazie a me, buon lavoro, buon lavoro, ciao e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti